Ciao a tutti, io sono Giada Tarribelli e sono qui con Emilio Palmerini Ciao! Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e... Nuovi giochi di ruolo, dopo la sigla dei Supernova Collective Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo Sai che dovrai affrontare un drago Ma questa volta sono due E hanno un microfono Ciao Giada, che bello incominciare a registrare questa nuova stagione Sì, dopo pochissimo riposo in realtà Però stava iniziando a mancarci registrare dal vivo con le cuffie Sentire la voce in cuffia nello studio, eccetera, eccetera Un po' questo clima No, vederci no No, abbiamo preparato gli episodi per il resto dell'estate Adesso siamo carichi E' ora di cominciare a registrarle Ed è ora di partire col botto Perché oggi portiamo subito tre quick start Che abbiamo un po' esplorato durante quest'estate Sì, perché abbiamo avuto il tempo di leggere un bel po' di giochi di ruolo Alcuni per intero, alcuni non sono ancora usciti E quindi c'è soltanto la versione di prova o quick start E questi tre li abbiamo selezionati perché sono particolarmente interessanti Per un motivo o per l'altro E vogliono segnare un po' con questo primo episodio l'inizio della nuova stagione Da quando abbiamo aperto due draghi sidecast Abbiamo deciso di provare anche i nuovi giochi di ruolo Non soltanto Dungeons & Dragons E questo è l'inizio Con tre nuovi giochi di ruolo Che abbiamo letto, perlomeno E che vorremmo provare in futuro Siamo finalmente arrivati a quello step che Emilio aveva promesso Quando, non so esattamente in quale stagione Ma chi ci segue dall'inizio sa che c'è stato questo percorso In cui Emilio è partito da Dungeons & Dragons è intoccabile Non giocherò mai a nient'altro A, vabbè, qualcos'altro provo magari è decente A, wow, ok, forse alcune cose Dungeons & Dragons non è in grado di farle Quindi c'è questo romanzo di formazione che prosegue E, scherzi a parte, partiamo proprio con un gioco Che fa tre cose che D&D non è in grado di fare nel suo manuale Esatto Cioè cucinare cibo, viaggiare e cacciare mostri È sorprendente, no? Che un gioco che ha un intero manuale delle regole base Dedicato a mostri, a un bestiario di mostri Poi abbia così poche regole per dare senso a quei mostri Per integrarli in un mondo e per interagire con quei mostri Hai le regole normali del combattimento E qualche piccola notizia che ti mettono all'interno del manuale L'unica altra cosa che più o meno c'è È come muoversi nella natura selvaggia Ma anche lì si traduce quasi sempre in Fai dei tiri su sopravvivenza E quindi è per essere un gioco che Il cui idea principale è attraversare dungeon Fare roleplay e uccidere mostri Di fatto non ha nulla di particolare sull'uccidere mostri Sì o perlomeno il combattimento che facciamo contro un mostro di solito Non si distingue così tanto dal combattimento che facciamo contro una guardia O contro un qualsiasi altro nemico Ma i mostri non si distinguono neanche tanto dai personaggi Non si sa come mai ma alcuni hanno delle abilità speciali Altri usano gli incantesimi Che trovi nel manuale lo usano più o meno nello stesso modo di un incantatore Quindi volevamo trovare qualcosa che sistemasse un po' queste cose Tra l'altro abbiamo parlato di viaggiare e cacciare mostri Cucinare D&D non ha meccaniche per cucinare Ognuno solo inventa un po' come vuole Per essere appunto un gioco di ruolo Che rappresenta l'avventura Tutta la parte di avventura Di creare il campo Foraggiarsi il cibo e così Negli anni è stato pian piano tolto dal gioco È diventato più un gioco di roleplay In setting i fantasy Che è un gioco di Che a me va benissimo Sì sì che va benissimo a tutti in realtà Però per chi cerca anche altro Ci sta a esplorare nuove cose E il gioco di cui parliamo oggi Tra l'altro ha anche lui questa dinamica Cioè puoi usarlo sia per fare il normale gioco Sia per cacciare mostri e cucinare cibo Che è la cosa che probabilmente mi ha convinto di più di questo gioco Ma iniziamo a parlarne Quindi il nostro primo incontro Di oggi Wilder Fist Wilder Fist è un gioco che si ispira alle atmosfere di Zelda E dello studio Ghibli E si ispira bene Sì E promette di regalare avventure attorno al cibo Appunto E al mangiare assieme in generale Quindi ha una certa cultura proprio del cibo E del pasto Sì È un aspetto molto importante della nostra cultura Tra l'altro Come italiani forse è una cosa che capiamo benissimo Visto quanto diamo importanza al cibo regionale Alle usanze attorno alla tavola Quanto è importante per i genitori per esempio Che i figli non guardino il cellulare a tavolo Quindi è una cosa che risuona subito un po' con la nostra cultura Ed è una cosa che risuona con tutte le culture al mondo in realtà Tutti hanno qualche forma di ritualità nel cibo E un gioco che interpreta quel senso di comunità tramite il cibo è molto interessante Tra l'altro fun fact che non abbiamo messo nello script Ma che mi è venuto in mente adesso Sentendo questo gioco per chi ha ascoltato l'episodio con Claudio Pustorino Potrà venirvi in mente un gioco che lui aveva accennato Che era qualcosa a cui stava lavorando Infatti quando poi è uscito Wilderfist e l'abbiamo letto abbiamo detto Oh mio dio non abbiamo capito niente di quello che ci ha detto Esatto cavolo Allora forse stava lavorando a quello e non abbiamo capito Invece no abbiamo visto che non è tra gli autori di questo gioco Però vuol dire che è niente Semplicemente qualcuno ha avuto un'idea simile a quella di Claudio O noi ancora non abbiamo capito niente Questo mistero ce lo porteremo avanti fino alla fine del podcast Esatto Però insomma date anche a riascoltare quella puntata che è molto interessante A me ha ispirato tantissimo questo gioco Ma veramente tanto proprio per le vibes che dà Vabbè a parte che già che mi parli di cibo mi hai conquistata Sì esatto cibo con sopra l'estetica dello studio Ghibli Penso che sia abbastanza facile conquistare il cuoricino di Giada E no mi piace molto il concept in cui il proverbio sei quello che mangi Viene portato proprio all'estremo Perché in questo gioco quando mangi dei mostri, delle bestie Ne assumi alcuni tratti e alcune capacità Che non modificano soltanto le tue abilità a livello di scheda Ma modificano anche visibilmente il tuo corpo E già soltanto per dare un'infarinatura visiva del manuale Del quick start anche il manuale non l'abbiamo ancora visto ma sarà molto simile Quando sfogliate vedete tutti questi personaggi che hanno tutti qualche aspetto mostruoso Esatto Possono essere le scaglie, una chela, la coda, le zampe da volatile, le ali Ma integrate molto bene appunto nel corpo del personaggio con uno stile molto fumettoso Però è molto originale no? Ti dà subito l'idea ok posso creare qualcosa di mio che non ha nessun altro E che è da un po' che sinceramente non vede in altri giochi In altri giochi è più ah guarda sì guardo la copertina Guardate per esempio Fabula Ultima Guardo la copertina e dico ah posso giocare un mago, un guerriero, un ladro e così via D&D uguale invece qui è proprio un posso giocare un mio personaggio che ha quei tratti e quel particolare aspetto A me è piaciuto molto appunto il fatto che l'intera lore si basi poi su questo concept Sei quello che mangi Che come dicevi tu permette una caratterizzazione del personaggio molto elevata E anche il fatto che come accennavi prima ha diverse fasi giocabili Infatti le fasi del gioco si possono suddividere in due macrofasi Che sono il gioco libero in cui di fatto crei relazioni con gli altri compagni di parti Ma anche con il mondo intero Esatto Quindi proprio la parte di roleplay che puoi giocare come vuoi E che ha meccaniche quindi puoi anche volendo combattere puoi avere anche incontri Puoi avere anche trappole da risolvere Cioè può essere tranquillamente Dungeons & Dragons o un qualsiasi altro gioco di ruolo E poi invece la parte legata al viaggio che è la parte vera e propria di avventura In cui devi seguire tracce, foraggiare, accamparti, cacciare il mostro E infine una volta avute diciamo le tue risorse per poter cucinare Fare il banchetto Che appunto ha come varie fasi cucinare, servire e gustare una nuova ricetta insieme agli altri In una grande festa E che poi vedremo serve anche per livellare no? Perché tutto il loop di gioco di questo gioco si basa sul fatto che fai roleplay libero Finché non arrivi a trovare un mostro a cui dar la caccia E poi inizi la caccia a quel mostro Esatto Fino a mangiartelo A me sfogliando inizialmente il quick start Vedendo le vibes che dava e leggendo qua e là alcuni sprazzi Mi è venuta subito un sacco di voglia di giocarlo e soprattutto di masterarlo Perché mi sembra molto interessante come idea di campagna Questo continuo alternarsi di gioco libero e viaggio E un viaggio così ben costruito con delle meccaniche molto precise per ogni fase Cioè penso che aiuti molto il narratore Però poi a un certo punto leggendolo mi sono frenata ma vedremo poi il perché Volevo sapere però il tuo parere sul gioco Eh a me piace molto Lo stile è uno stile che mi piace ed è un gioco particolare ma avendo tante meccaniche Non è uno di quei giochi particolari dove si nasconde dietro la sua particolarità Per dire sono un gioco di storytelling Voglio rappresentare quella cosa e quindi non ti do meccaniche perché una volta fatte quelle base Hai già rappresentato quello che vuoi Ha tante cose che si possono usare al di fuori che si possono manipolare che si possono cambiare Una di queste per esempio è come fare il cibo Tutta la meccanica degli ingredienti è molto semplice quindi è facile da espandere se sei il narratore Dove trovi gli ingredienti come li trovi come li metti assieme che poteri danno e così via Però poi è anche offerto dal gioco Non è ah è narrativa quindi inventate voi che cosa volete No ci sono degli esempi e nel manuale finale da quello che abbiamo capito ci saranno esempi molto più approfonditi Con tanto i dettagli di tutti gli ingredienti delle varie zone del mondo Che ti permette se non hai voglia di crearti tutto questo popò di roba all'inizio di svilupparlo Di averlo già pronto E tra l'altro è un altro gioco che potrebbe cadere un po' nella trappola Di dire ah siamo così tematici abbiamo un sapore così forte Possiamo ignorare gli altri aspetti Possiamo ignorare per esempio la lore Invece la lore sembra veramente viva Il mondo è pieno di mostri Questi mostri vengono affetti da una particolare follia che li porta ad essere pericolosi Inserendo così tutto il tema di controllo del territorio e quanto è giusto mangiare È vero che sono mostri ma se li mangiamo tutti per avere questi poteri O per avere il lavorio per esempio O le risorse che ci danno Ci sono mostri che sono d'acciaio per esempio di ferro Che cosa comporta? Poi ci sono delle parti politiche che approfittano della situazione Esatto corporation che gli stanno disboscando Sfruttando, distruggendo gli habitat È molto molto interessante Molto veramente ben pensato a tutto tondo Non è semplicemente parliamo del cibo Quindi vi diamo quelle semplici meccaniche e potete andare Sì e i Wilderfist non sono, scusami I Wilders Che sono i personaggi di Wilderfist Esatto I personaggi giocanti Che sono appunto questi cacciatori di mostri Non sono semplici cacciatori di mostri Cioè non lo fanno né soltanto per la fame banalmente Né soltanto per divertimento Ma sono proprio degli eroi Perché sono coloro che possono spezzare questo ciclo di follia Tra l'altro ti respingo un po' questa cosa Perché non sono considerati per niente eroi dal manuale Sono considerati ranger, no? È quasi un mestiere il loro Come se fosse un semplice compito Mantenere l'equilibrio con la natura Quindi non sono meglio o peggio degli altri È il loro mestiere Però mi sembra che lo specifichi in un certo punto Cioè che dice Tutti gli altri stanno cercando di approfittare della situazione E loro sono gli unici che provano a spezzare questo ciclo Loro sono etici Non mi ricordo se li definisce veramente come eroi Però la sensazione che dà è più veramente Siete un gruppo di persone che vogliono fare la cosa giusta E lo fanno rimanendo in sincrono con la natura Lo fanno mangiando i mostri come gli altri Ma magari soltanto i mostri già adulti Salvando i cuccioli Non uccidendo le madri e così via Quindi diciamo che è un gioco che anche lì Poteva ignorare completamente tutto questo aspetto etico Perché cacci i mostri Era molto meno di impatto che dire Ah, stai cacciando animali Invece ci ha pensato e ci ha costruito sopra E questo mi piace tanto Vogliamo dare un'infarinatura su come funziona il gioco Prima di passare al prossimo? Sì, vai Per superare ostacoli e prove Si possono combinare gli stili e le abilità Quindi è uno di quei giochi dove non hai soltanto l'abilità Che ne so, non tiri soltanto su destrezza Lo puoi tirare con un particolare stile Quindi dando un sapore Dando un colore diverso all'abilità che stai usando Io adoro sempre i giochi che fanno questa combinazione Non li ho mai provati Dovrò provarli nello specifico per capire Baralmente Broken Compass in realtà Eh sì, ma Broken Compass non mi ha mai preso fino in fondo Vorrei provare io a giocare invece che essere Game Master Anche perché praticamente io non li ho mai tirate Le abilità modificate Dovrò farti fare un'avventura di Broken Compass E stile e abilità vanno a formare i pool di dadi Quindi è un gioco con i pool di dadi La cosa interessante di questo gioco E ti rubo un attimo la parola sul pezzo successivo È che poi la qualità del successo Non è data dai dadi che tiri nel pool di dadi Ma da un dado aggiuntivo Sì, che può essere Che si chiama dadoazione innanzitutto E può essere un dado 8 o un dado 20 Nel caso in cui si vuole abbracciare la propria parte bestiale Quella derivata quindi mangiando i mostri Che ci ha dato determinate abilità speciali Allora si rischiano conseguenze utilizzando il dado 20 però Che quindi offre una probabilità più alta di avere anche successo Immaginatevelo come se fosse praticamente un dado epico Hai fallimenti più grossi e successi più grossi In sostanza il pool di dadi decide appunto se l'azione è successo o meno Il dado azione che quindi è o il dado 8 o il dado 20 a seconda della scelta del giocatore Determina quanto sia successo E come lo devi narrare in pratica Una volta che i Wilders hanno deciso di dare la caccia ai mostri Si passa alla fase di viaggio che dicevamo prima Che aggiunge proprio delle regole speciali per modellizzare le varie cose Dalla ricerca del mostro La sua uccisione A cucinare il banchetto con le parti del mostro Molto interessante anche come sono costruiti i mostri Perché ogni mostro è suddiviso in varie parti E quindi tu quando combatti Puoi fare quella cosa che in D&D i giocatori ti chiedono Sempre ma non hai meccaniche per fare Cioè se ha un corno che spara raggi laser E se io colpisco il corno abbastanza da romperlo Non può più sparare raggi laser In Wilderfist funziona Esatto Magari ha ancora quella mossa Quindi non è completamente sbilanciato da lì in poi Però viene indebolita Perché tu hai danneggiato quella parte E quindi pensare a che cosa effettivamente il mostro sta attivando Quando, come È un modo intelligente per giocare Per combattere questi mostri Non spiegheremo tutte le regole Però gran parte delle sfide diciamo più grosse Come per esempio il viaggio Si basano su dei clock Per chi non lo sapesse Il clock è una meccanica dove È una sfida che si compone di più tiri diversi E devi riuscire a completare Entro una certa quantità di tempo Quindi magari hai cinque parti di questo clock Se le superi tutte e cinque Prima che il game master decida che è passato troppo tempo Riesci a trovare per esempio il mostro che stai cercando Riesci a salvare l'animale che è ferito Che è inseguito dai bracconieri Altra meccanica che mi piace molto nei giochi È interessante capire come gestire In questo caso è molto utile Perché così ti permette di modellizzare il viaggio Senza però dover per forza narrare tutto Esatto Quindi si può decidere di schippare alcune cose E portare avanti semplicemente il clock Mentre invece quando finalmente si trova il mostro Poi c'è una fase di combattimento specifico Gestita con il mostro Con un'iniziativa innovativa Ma che non vi spiegheremo del tutto Perché il quick start è gratuito Potete quindi benissimo scaricarlo e leggervelo E il quick start di Wilderfist Diciamo che riesce molto bene in tre cose Farci vedere le regole principali Farci venire voglia di esplodare il mondo E metterci a disposizione una bella avventura Per capire come giocare E si trova alla fine del quick start È veramente veramente molto bella Molto tematica E ci sono veramente delle zone intelligenti C'è questa zona per esempio del mondo In cui ci sono C'è una popolazione che si prende cura degli alveari Delle api E quindi tu puoi trovare il miele Vari tipi di miele Mentre ci passi attraverso E così via Soltanto per quello è molto interessante È molto più utile L'avventura a capire come si gioca Che alcune parti del regolamento Che sono scritti in modi un po' confusi Sì esatto Cioè leggendo si chiariscono anche Cioè si chiarisce anche che il gioco è più flessibile Nelle parti di viaggio e di scoperta E magari invece ci sono altre Parti dove è molto più rigido e tattico Come quelle del combattimento Tra l'altro piccolo disclaimer alla fine di questo segmento Noi siamo in contatto con Horrible Guild Che è la casa editrice di Wilderfist Sono italiani e siamo già d'accordo Per fare un episodio speciale con loro Quando uscirà il manuale vero Per ora quello che pensiamo E verrà uno dei loro direttori Dello storytelling e della narrativa Per parlare di come è stata inventata la narrativa Di questo gioco e come si è evoluta nel tempo Io faccio Visto che all'inizio avevo detto Vi spiegherò dopo perché a un certo punto mi sono frenata Cosa ti frena? Non mi ha fatto impazzire com'è scritto il quick start Nel senso che ho fatto un po' fatica a orientarmi proprio Le regole sono tante E questo è molto utile in realtà Ma per come sono scritte Mi hanno mandato un po' in confusione Ci sta direi Visto che appunto non è ancora il manuale definitivo Quindi molto probabilmente è anche quello in fase di aggiornamento Però rispetto a tutte le vibe Tutta l'estetica Che ha il quick start in generale Le varie immagini promozionali che ci sono in giro Che hanno comunque un'estetica molto cartoon Che quindi ti fa subito Cioè ti proietta subito in un immaginario In cui ti immagini qualcosa di molto giocoso Ma anche di molto semplice E come dire veloce Ok? Invece poi mi sono trovata davanti A qualcosa di più complesso di quanto mi aspettassi E quindi semplicemente per come sono fatta io Ho detto Ok Allora freniamo Sì non è una cosa che posso tirare su in un giorno Esatto Iniziare a giocare Devo pensareci un attimo All'inizio Quando ho letto l'introduzione Ho detto Wow ci voglio giocare subito Adesso tiro su una campagna La facciamo quest'estate E poi ho detto Ok ok Frena Con calma E magari aspettiamo il manuale completo Anche perché il quick start magari soffre un po' Perché è la bozza delle regole Sistemate Compressate Per poter stare in quel numero di pagine Quindi è normale che sia un po' più difficile da capire E vedremo quando uscirà il manuale compreso Assolutamente sì Passiamo al secondo incontro di oggi Che è invece Outgunned Il nuovo gioco di ruolo del duo Two Little Mice Che abbiamo intervistato nella scorsa stagione Trovate il link dell'episodio in descrizione Se meglio si ricorda di metterlo E che avevano già annunciato ai tempi Perché stava uscendo proprio in quel momento Outgunned è un gioco di ruolo Incentrato sull'azione cinematografica Che va da John Wick 007 Die Hard Fast and Furious E metteteci tutti i film che volete di quel genere Inserite Tom Cruise qui E nonostante vi sembrino all'apparenza appunto lo stesso genere In realtà c'è molto da coprire a livello cinematografico Cioè se volete Fast and Furious è molto diverso da 007 Non è 007 che è ancora diverso da Tom Cruise e da John Wick Outgun fin da subito Appena iniziate a leggere la beta e il quick start Dà subito la sensazione di essere un solido seguito Di Broken Compass To Little Mice ha chiaramente trovato la sua formula Per impostare i manuali sia a livello grafico che a livello di contenuti E funziona di brutto E quindi se funziona perché cambiarla nel senso Però l'altra faccia della medaglia è che Leggendo velocemente il quick start Non dà la sensazione di avere tra le mani qualcosa di nuovo Sì ci sono alcune nuove meccaniche Sì c'è un leggero cambiamento di flavor Ma la mia impressione è stata che benissimo con Broken Compass Avrei potuto narrare le stesse identiche cose È un quick start Quindi magari ci sono altre regole Altre cose aggiuntive nel manuale completo Però la sensazione è quella Sì come per il gioco precedente Wilder Fist Questa non è un'intera review Quindi non sarà un paragone completo con Broken Compass Però sicuramente se prendiamo i giochi del duo To Little Mice Pensiamo ad Household Cioè Household non c'entra nulla con questi Noi abbiamo giocato il quick start di Broken Compass È completamente diverso da Household Cioè guardandola è un altro gioco Un altro tipo di gioco Invece questo gioco si basa sullo stesso sistema Sullo stesso motore E quindi per forza di cose è un po' simile A me continua a piacere molto Come dicevo penso funzioni veramente tanto Lo stile cinematografico del duo Che come per Broken Compass Ha proprio preso dei riferimenti molto chiari Per tutti coloro che giocheranno E quindi questo aiuta veramente tantissimo Sia il narratore che i giocatori Cioè hanno un immaginario molto comune Appunto deciso insieme al tavolo Che possono sfruttare Per descrivere delle scene fighissime Sì E abbiamo visto quanto funziona questa cosa comunque Mi chiedo poi se nel manuale finale Ci saranno degli strumenti aggiuntivi Per rendere però veramente il genere fino in fondo Perché un conto è avere in mente come funziona 007 Un conto è creare un'avventura di 007 Tant'è che spesso avventure scritte dagli sceneggiatori di 007 Non sembrano 007 Cioè non è così scontato come cosa è riuscire a ricreare un casino royal Se il gioco non ti dà strumenti per giocare a Casino Royale O non ti dà strumenti per giocare a Mission Impossible Protocollo Fantasma O non ti dà strumenti per giocare a Fast and Furious Cioè tu vorresti Proprio strumenti narrativi Narrativi quindi meccaniche però Cioè vorresti delle meccaniche più complesse Ma l'esempio che faccio L'esempio che faccio sempre No quello un pochino c'è nel gioco E c'era già in Broken Compass Quello che a me manca È mancato per ora in questo manuale È oltre ad alcuni side note Side bar che ti danno una mano Qualcosa proprio alla Ironsworn Dove c'è un capitolo che ti dice Se vuoi fare una storia di viaggio Questa è la trama Incontro 1, incontro 2, incontro 3, incontro 4 Se vuoi una storia di crescita personale Un canovaccio Sì un canovaccio Una sceneggiatura base Un template Che mi aiuti a dire Ok ci sono questi tipi di action Non è tutto uguale l'action che è Come faccio a portarlo avanti Un po' come diceva Pustorino in Prism Ci sono questi diversi tipi di utopia Dei frame praticamente Esatto io te li offro Non mi sembra che ci siano in Outgame Nel Quickstart almeno No nel Quickstart non li ho visti Però sarebbe interessante avere poi il manuale Il manuale completo Perché di solito Cioè degli strumenti del genere Sono un po' dei supplementi Che vengono messi poi nel manuale completo Effettivamente Perché ha senso che uno paghi Per avere anche quella parte Sì L'idea è che Quickstart Sono fatti per provare il gioco C'è già l'avventura Non ti devo dare strumenti Per creare una nuova avventura Esatto Quindi è interessante Anzi se qualcuno di voi Ha il manuale completo di Broken Compass E sa se ad esempio Già in Broken Compass C'erano strumenti del genere Ce lo faccia sapere E poi invece vedremo Quando vedremo il manuale Quando vedremo il manuale Ne parleremo Anch'io comunque ho L'idea Ho avuto l'idea Chiarissima Che sia praticamente Un'espansione di Broken Compass Come dicevi prima La meccanica è identica Cambia veramente soltanto il genere Però E cioè Credo di capire Perché non lo hanno potuto chiamare Non so Broken Compass Due punti outgun Perché effettivamente Comunque Sono proprio Due generi diversi Cioè Avendo già fatto diverse espansioni Di Broken Compass E in quel caso Avendo senso Quelle espansioni Per il genere Avventura Caccia di tesori E così via Era troppo strano Farne una Completamente diversa Così come Quando lo faranno Non so Nello spazio Facendo un genere Fantascientifico Nello spazio Sarà ancora Probabilmente Un altro manuale No? Con però Sempre lo stesso motore Di gioco alla base Qualche modo Cioè secondo me Il motore Quello cinematografico E come dicevi Hanno visto che funziona E ci sta Che continuino ad utilizzarlo Forse preferirei A livello editoriale Che esca un manuale Con il motore E poi Manuali più piccoli E meno costosi Per tutte le varie Per tutte le varie Espansioni Per così dire Però qui Cioè ognuno fa Non sono abbastanza esperto Per fargli conti in tasca E se è la formula Che funziona per loro Sono ben contento Che funzioni E secondo me Vale la pena Comprarlo in manuale Cioè è molto diverso Nello stile Nell'impostazione E di sicuro Avrà contenuti in più Come funziona il gioco? Esatto Spieghiamolo un attimo Perché continuiamo a dire Che è come Broken Compass Dando per scontato Che tutti lo conoscano Ma potrebbe non essere così Quindi Il gioco si basa Su un pool di dadi Dove il successo Non è determinato Dal numero che esce sul dado Ma dai punti del poker Quindi devi fare coppia Tris Poker e così via Perciò sì Il numero conta Ma in quanto abbinato Agli altri dadi Volendo puoi prendere Anche i dadi apposta Di outgun Che hanno soltanto Dei simboli E vedere quante coppie O quanti tris O quanti poker Di quel simbolo Riesce a fare Ovviamente più la prova Ha un livello difficile E più il alto Deve essere Il punteggio ottenuto Con la coppia Sì no con i pool di dadi Sì scusami Con i pool di dadi Quindi coppia È quello più semplice Per esempio Mentre poker È praticamente Un successo estremo I successi extra Quindi ad esempio Serviva semplicemente Una coppia Io ho fatto un poker Danno accesso Ad azioni aggiuntive Mentre se fallisci Hai diverse modalità Per poter rilanciare il dado Perché ci sono Delle abilità Sulla scheda Che ti consentono Di farlo È risorsa Abilità E così via Proprio come i protagonisti Di un film d'azione I giocatori sono praticamente Immortali E il gioco stesso Nel quick start Ci dice che il fallimento Non esiste Quindi sta un po' al regista A gestire il fallimento In modo cinematografico Quindi prendi un proiettile Ma sei ancora in grado Di combattere Perdi l'oggetto Che avevi trovato E devi tornare a riprenderlo E così via Per le prove più pericolose Il giocatore ha accesso A un'altra risorsa Che è la grinta Che perdi Nel caso di fallimento Ma anche quando la grinta Finisce C'è la possibilità Di salvarsi Con la roulette E questo è molto figo Mi è piaciuto anche Che c'è proprio Disegnata la roulette Russa Graficamente Per chi non lo sapesse La roulette Russa è un gioco Non so in quale Finazione è stato inventato Sì dove tu Carichi una pistola Con una pistola tamburo Con un certo numero Di proiettili Fai ruotare il tamburo E poi premi il grilletto Mentre te lo punti Alla tempia O lo punti Alla tempia di qualcun altro Non fatelo a casa Ovviamente Mamma mia Non so perché dovreste avere Una pistola tamburo Ma non fate cose del genere Se clicca Se becca il proiettile Mi dispiace Avete una probabilità Su 6 L'avete beccato Se non clicca Siete salvi E passate la pistola A qualcun altro Qui è rienterpretato Con ogni volta Che arrivi al punto X Dove hai terminato I punti grinta Dove sei sull'orlo Della morte E così via Segni un proiettile Sul tamburo Della pistola E poi lanci Un dado 6 Se fai di più Del numero di proiettili Che hai Nel tamburo Sei salvo Se fai di meno Addio E devi fare un nuovo personaggio Quindi di fatto A un certo punto Puoi morire Però è anche vero Che non vedo Come arrivarci Anche perché Esattamente come Broken Compass Esattamente come Il genere a cui si riferiscono Non è fatto per campagne lunghe È fatto per un film Quindi giochi a Mission Impossible Protocollo Fantasma E nell'episodio dopo Tom Cruise Ha 60 anni Non si sa come Faccia quegli stunt Ma è come se niente fosse È completamente guarito Da tutto quello Che ha subito prima Per non parlare Di Keanu Reeves Che non si sa come Ma anche mentre è mezzo morto Fa cose Quindi la sensazione Che dà questo gioco È un pochino quella Esattamente quella Tecnicamente Non immortale Ma non è neanche quello Il bello Vedere se sopravvivi Il bello è vedere Come fai fuori I tuoi avversari Come procedi Un'altra cosa interessante Che aveva già anche Broken Compass Sono le condizioni Che sono praticamente Semipermanenti Nel senso che Nel momento in cui Magari Hai un grosso fallimento Ti segni una condizione Negativa Adesso non ho la scheda Davanti Ma mi sembra che Siano ad esempio Scioccato Sanguinante Oppure una di quelle positive Se va particolarmente bene Qualcosa Ad esempio Mi sento invincibile E c'è proprio il Mi sento puntini puntini E ti segni il diamantino Con accanto Una di queste parole E poi Le giochi Sia nel Nel roleplay Che ti danno Alcuni bonus O malus Su alcune delle Dei pool di dadi Insomma Delle caratteristiche Però esattamente Come per il genere C'è sempre un modo Come in Batman Mi ricordo sempre Che nell'ultimo Batman Lui dovrebbe avere Un ginocchio Che è andato Dallo scontro Con il Joker Che gli ha spezzato Il ginocchio E zoppica Per tutta la prima parte Del film Quando decide Di tornare in campo Semplicemente Si mette un esqueletro Alla gamba E non zoppica più Per tutto il resto del film Fine Capito Quindi ci sta Il genere Fatto apposta Per divertire così E quindi va benissimo Come per Wilder Fist Anche in Outgun C'è tanto lavoro Da fare Per modellizzare Il genere Quindi ci sono Meccaniche specifiche Per sparatorie Combattimenti Inseguimenti Ci sono gli inseguimenti E sono molto meno originali E molto E rappresentano Molto peggio I combattimenti In movimento Del combattimento aereo Di Colville Quindi se Secondo me Si può sostituire i due Io sostituisco Il combattimento aereo Di Colville A qualsiasi cosa Prima o poi Lo sostituirò anche A roleplay Perché quello La prima volta Che abbiamo giocato Io sono rimasto Veramente innamorato Di quel sistema Perché ti dà Proprio la sensazione Dei caccia Che si inseguono Nell'aria E qui invece Ti dà la sensazione Esattamente la sensazione Di molti inseguimenti Negli action Che dovrebbero succedere Tante cose Ed essere dinamici Invece guardi Per mezz'ora Gente che si insegue Con la stelicam Vicino Alla ruota Non sai dove arrivano Non sai dove vanno Quindi Non mi ha entusiasmato Più di tanto Vedremo poi Se riusciremo a provarlo Come va Anche in questo caso C'è un'avventura inclusa Come dicevamo Più breve Rispetto a quella Di Wilder Fist E anche più clichettosa Però va bene così Una cosa che mi è piaciuta Di quell'avventura E che ti sbatte subito L'azione in faccia Quindi va subito giù A tappeto Sull'acceleratore Posso dire una cosa Perché hai detto Più clichettosa Come se fosse Un punto negativo In realtà Secondo me È necessario Per un gioco del genere Così come per Un block in compass Lavori sui cliché Cioè è proprio Clicé 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 Ed è proprio Quello che vuole Chi gioca a questo gioco Se è bravo Il vostro regista Il suo gioco È sovvertire Un paio di quei cliché Fondamentali Per far renderlo Una nuova storia Cioè 007 Decidi di sovvertire Magari lui È un prete E quindi non ha Nessuna intenzione Verso nessun altro Essere umano Come invece Il buon 007 Ha su tutte le donne Che collaborano con lui E quello potrebbe Essere interessante Oppure un membro Dell'altra parte Del colonialismo Quella è una sovversione Di un cliché Puoi tenere tutto il resto Uguale Come agente segreto Identico Però è uno di quei posti Nel mondo Dove invece L'imperialismo britannico Con 007 Ha fatto i suoi porci comi Giusto per dire E poi ci sono le proposte di Emilio Che a un certo punto mi fa Ho un'idea geniale Ho un'idea geniale per Sidecast Usiamo Outgun Ma nella terra di mezzo E qui ho bisogno di voi Perché Giada non è convinta Assolutamente no Quindi metterò il sondaggio Adesso che si può fare Se siete su Spotify E scorrete verso il basso Dall'episodio Trovate i capitoli Quindi come è separato l'episodio Ma anche il sondaggio E in quel sondaggio Ci sarà scritto Sono interessato a sentire Outgun nella terra di mezzo Non sono interessato a sentire Outgun nella terra di mezzo Allora prima ti dico perché non l'appoggio E poi se vuoi Prima ti dico com'è il pitch Ok In una terra di mezzo alternativa Per non incorrere nelle ire Del 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 Tolkien Estate Che è famoso per essere molto Incazzato con chi usa il loro franchise Quindi diciamo In una terra agli estremi Un hobbit brodo Non butta L'arma definitiva Del signore del mare Bauron Del mare? Del mare Bauron A sto punto nel lago Vabbè ok Frodo non butta l'anello Nel monte Fato Ok O meglio Gollum non arriva a staccargli il dito Ok E scompare E l'arma è persa Nessuno dei due a quel punto Tutti hanno messo troppe risorse Nella battaglia finale Ai cancelli neri Quindi si va in una guerra fredda Che dura per 10-20 anni Quindi hai tutti i personaggi Della compagnia che si è sfaldata Perché hanno fallito Che sono diventati vecchi Il mondo è cambiato Nel frattempo la tecnologia del signore oscuro Ha iniziato a spandersi Per la terra di mezzo E così via E all'improvviso salta fuori L'arma di nuovo E voi giocate come gli agenti segreti Che vanno a recuperarla Bellissimo Bellissimo se lo fai Con un sistema appropriato Eh E' uguale Tu immaginati Tipo gli agenti segreti di Gondor Che si buttano giù dalle acri Per assaltare il Rivendale Secondo me no Con i paracaduti Cioè non capisco Non capisco Non riesco veramente a integrare Le due cose nella mia testa Come dicevo prima Secondo me Se divento con i cavalli Nella prateria Outgun Deve essere Molto cliché Su quel genere Esatto E io mi immagino gente Con la camicia La cravatta E la giacca E la pistola al fianco E un'armatura sopra E il sigillo di Gondor No Si secondo me è perfetto Ti rovina tutto Uno Secondo me è bellissimo Due Cioè gli inseguimenti Con i cavalli No Deciderà il nostro pubblico Vabbè Io Cioè i miei punti sono che Penso Che sia un bel pitch Per una campagna Sì Mi piace la roba del Noi siamo gli agenti segreti Le spie di qua e di là Andiamo a recuperare l'anello Eccetera eccetera Ma lo fai con un altro sistema Dungeons and Dragons Fatto per il fantasy Eh fallo con Dungeons and Dragons No no lo facciamo con Outgun Nei commenti La domanda sarà Usereste Outgun per un fantasy E potete rispondere Sì No Schieratevi In questa guerra Hai le meccaniche per le sparatorie Perché dovresti usarlo per un fantasy Eh con le frecce E' uguale E adesso Passiamo al più pazzo dei tre Che non era questa idea di Emilio Ma il terzo quick start Ma solo dopo un riposo breve Con il nostro sponsor Stivia Stivia è il primo romanzo Di Alberto Cantarello Il nostro sponsor Che potete trovare Su bookabook.it Slash libro Slash Stivia O anche nel link In descrizione Stivia è un portal fantasy Cioè uno di quei libri fantasy Come Narnia Dove le persone trovano Un portale per un altro mondo Ma Alberto L'ha scritto in modo Molto più realistico E molto più vicino Ai canoni dell'hard fantasy Quindi se vi piacciono entrambi i generi Sia Narnia Che Sanderson Come sottoscritto Quindi sia art fantasy Che portal fantasy Date un'occhiata Al libro di Alberto Al sito Bookabook.it Slash libro Slash Stivia O cercando Stivia In qualsiasi motore di ricerca Perché il nome è ben scelto E si trova Molto facilmente Veloce intromissione di Emilio dal futuro Per dirvi che Il kickstarter Di Wilderfist È online Dal 5 settembre Quindi se state ascoltando L'episodio appena uscito Potete andare a controllare Il kickstarter Secondo noi vale veramente la pena E quindi fateci un salto E vedete Come è messo Cosa offrono Com'è il gioco completo Come sono belle le immagini E così via Vi lascio all'altro segmento Ciao Allora Mentre Wilderfist E Outgun Per quanto interessanti Erano giochi Normali Sì Sensati Sensati Leggibili Adesso passiamo a un gioco Che a me è venuto Il mal di testa Per sfogliare Il quickstart È geniale Solo tu potevi trovare Un gioco del genere Comunque E ho anche pagato Il kickstarter Allora Si chiama Triangle Agency Sì È un gioco di ruolo Che rientra nel genere SCP Secure Contain Protect Eh già È un genere fantastico È il mio preferito di fantascienza Ho letto pochissimo al riguardo Perché non ho mai tempo libero Ma è veramente fighissimo Se vogliamo Prendere Delle Degli esempi Degli esempi Dal cinema Anzi no Più dalle serie tv In realtà C'è Annihilation Sì Che è un film E invece X-Files Che è una delle serie tv Più lunghe di sempre E tra l'altro Uno dei miei telefilm preferiti Ma che secondo me è molto diverso Da quello che ho letto in questo gioco Cioè nel senso Diciamo che si situa a metà tra X-Files È una parodia forse Eh sì È una parodia di X-Files Ok Si situa anche vicino a cose come Severance Recentemente Veloce Inserto su Severance Questa corporation ha trovato il modo Per separare la mente dei propri dipendenti In modo tale che quando sono al lavoro Non sappiano niente di quello che fanno a casa E quando sono a casa non sappiano niente di quello che fanno al lavoro Urca ok Quindi è Big Corporation Fantascienza E Annihilation Perché è un po' di questo weird Che cose strane che succedono Che ti modificano la mente e il corpo A me in realtà La cosa che ha ricordato molto di più Cioè quello che sono riuscita a leggere Perché onestamente non sono riuscita a leggere tutto Di questo quick start Sono Non so se sei presente Cioè quando io andavo alle medie Inizio superiori C'erano quelle robe del tipo Ah se vai su questo sito È un sito Creepypasta Dove ci sono tutte le storie Tutti i file Nascosti di quei di là Ovviamente erano tutti siti Infatti Finti Super complottisti Il genere è diventato famoso Con SCP Archive Ok Cioè questo archivio Di tutte e varie Cose paranormali Successo ogni volta È scritto da un autore diverso E parla di queste anomalie E possono andare da mostri A C'è una radio russa Che trasmette cose strane E la gente quando l'ascolta impazzisce Ok O cose del genere Di base È un gioco di ruolo comico comunque Sì Quindi come dicevamo È un po' una parodia di tutto questo Questo si capisce molto bene da subito Cioè il manuale si capisce che Di fatto cerca un po' di Parodizzare Tutto il genere E anche i giochi di ruolo spesso È vero E voi potrete impersonare appunto I dipendenti di questa agenzia Che si chiama come il gioco Questo è molto importante Per capire il manuale Sì Che dà la caccia alle anomalie paranormali E il vostro game master Si chiamerà general manager E questo ci dà un'idea di tutto lo stile Il quick starter stesso Ha un tema molto forte È redatto come se fosse un documento Di un'agenzia Chiamata come il gioco E alcune parole hanno anche un doppio valore Per esempio Quando presenta E questo mi fa capire Perché per me è stato molto complicato È un labirinto Leggerlo in inglese Doppie parole del tipo Agency Table top role play game No Agenzia gioco di ruolo Perché si riferisce sia al gioco che state leggendo Sia all'agenzia Nella fiction del gioco C'è proprio un pezzo in cui scherzano e dicono Che se leggete la parola sbagliata Cioè se leggete gioco di ruolo È perché il vostro livello paranormale Non è abbastanza alto E quindi se state Se siete convinti di essere al tavolo Con i vostri amici a giocare È perché non avete ancora raggiunto Nell'agenzia un livello abbastanza alto Per avere accesso a tutta la visione Della realtà che avreste Quindi giocando a quel gioco È il vostro modo per lavorare Per l'agenzia Secondo me è strafigo come idea E non solo Ma c'è anche un altro livello ulteriore Nella struttura del documento Che mi sa che Giada non ha sgamato Perché si è fermata prima Ma a un certo punto C'è una pagina tutta scritta al contrario Da destra a sinistra Oh mio Dio sono folli Dove qualcosa dice Non ascoltare queste corporation Io ora ti dirò quali sono i tuoi veri poteri E non sai cos'è E chi sia E di cosa ti stia parlando È bellissimo E in generale tutto il test kit È molto curato Perché sia nelle scelte tipografiche Che nelle scelte estetiche È molto deciso È molto tematico Cioè Ma infatti a me È Too much Sì Too much Cioè però comprendo Che per chi è appassionato Di cose del genere Può essere molto molto interessante Come prodotto Sicuramente molto originale A me fa morire le meccaniche Perché visto che si basa L'agenzia si basa sul triangolo No Anche il pool di dadi È soltanto da di quattro Perché hanno la forma di una piramide Quindi triangoli E si riesce ad avere successo Solo quando si fa tre O un suo multiplo E il successo migliore è Tre 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 Sì Quindi tre volte tre Esatto Esatto Quindi con tre tre Hai un successo stabile In cui decidi tu cosa succede effettivamente Sei tre In tutti gli altri casi È un successo stabile Nove tre È un successo stabile In tutti gli altri casi Sei tre non è un successo stabile Ah ok Perché è due volte tre L'ho scritto male Boh vabbè comunque No Non importa Ma scusa Multipli di tre Sì ma è rilevante Ma sei un multiplo di tre Fa niente Ma è rilevante Ma è ancora più successo stabile Tre volte tre Certo È tipo l'ascensione Ok Mentre tutti gli altri successi Sono instabili Tutti i dadi Che non sono tre Quindi i dadi quattro Quindi i dadi quattro Esatto Tutti i dadi che fanno Non fanno tre Rientrano nel caos Che è la risorsa Che la general manager O il general manager Può usare Per far agire l'anomalia Sì basta Non so cos'altro spiegare È chiarissimo È follia È follia pura Io non ho capito niente Di come funziona questo gioco Ma non importa È così È bellissimo Il gioco poi procede Con la creazione dei personaggi Che sono tipo Tutti i tipi di laboratori aziendali Ma con una svolta paranormale È complicato anche capire Cosa effettivamente vale La creazione del personaggio Però ogni dipendente È legato ad un'anomalia Che ha il permesso aziendale Di usare Se riesce a tenere sotto controllo La mia preferita è L'anomalia del catalogo Che ti permette di aver catalogato In uno spazio multidimensionale Altre cose che puoi tirare fuori Quando ne hai bisogno Molto carino Uno dei poteri Gli puoi evocare cose praticamente E sono tutti poteri Molto molto vicini C'è un'anomalia della pistola Che sembra essere uscita Direttamente dal Chainsaw Man Tra l'altro se vi piace Chainsaw Probabilmente questo è il gioco Adi qua Non c'entra niente con Chainsaw Man Ma ha la stessa forma mentis Ah sì c'è il debole bomba Perché tutti hanno paura delle bombe Qua c'è l'archivio Il passadocumenti Le cose Il timbro E tutto fuori di testa Ogni dipendente poi Ha un proprio tipo Come se sei quello sempre impegnato O il romanticone Oppure c'è tipo il passacarte Quello sempre fedele all'azienda Ci sono un po' di ruoli Che ricopri nell'azienda E alla fine hai anche una competenza Che è il ruolo che ricopri All'interno dell'azienda Quindi hai un'anomalia Che ti è stata data a controllare Il tipo di persona Che sei all'interno dell'azienda Il tipo di lavoratore E poi effettivamente cosa fai Cioè per esempio Puoi essere un CEO Che è il romanticone Perché ci prova con tutti e con tutte E ha l'anomalia del catalogo Ok Ok E si gioca Basta C'è anche Non ve lo spoilerò Perché è un altro livello di complessità Perché il kit di test È fatto da Il manuale Per i giocatori Le schede E il manuale Per il general manager Che è tutto un altro livello di follia Cioè È proprio tutto Lì Ti spiegano tutte le regole In relazione con questa entità Che ti parla E che ti dice cose Mamma mia Quindi tu praticamente Sei l'anomalia Come general manager È fuori di testa È bellissimo È follia Mi piace tantissimo Ma allora Io non Vabbè ovviamente Non farei mai una campagna Ma neanche di qualche episodio Per una cosa del genere Di sicuro Non oserei mai masterarlo Cioè Non riesco veramente Ad andare oltre Alle poche pagine che ho letto Però Probabilmente Se tu te lo leggessi tutto Avessi voglia di creare Una one shot Per ridere con gli amici Cioè Lo vedo proprio come un gioco Che fai Un sabato sera Con gli amici di sempre Per farti delle risate In cui tu Spieghi velocemente Le regole Ti do già tutto pronto Esatto Quindi tu devi leggerti Soltanto la tua roba Non devi tentare di capire Tutte le varie cose Secondo me Non è importante Che capisci tutto È tanto importante Che becchi il genere Cioè Deve essere divertente Deve essere legato All'agenzia Ma io ho il sospetto Che possa tirare Un paio di pugni Filosofici Un paio di pugni Dove la gente ride Poi pensa e dice Oh merda Ok Se fai l'anomalia giusta Che ne so Mi immagino Un'anomalia del pullman Ok Puoi ragionare Su come si sente la gente No? Che è diventato un po' La nostra Terrore esistenziale Andare avanti e indietro Dal lavoro Sì 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 Cioè È un modo per ridere assieme Di cose Che poi quando ci pensi Veramente Dici Oh fuck Può dare Forse a me spaventa Perché mi dà molto Le vibes Di The Office Cioè non so perché Esatto Nel senso Non c'entra nulla in realtà Esatto Che hai due tipi di reazione A The Office È una roba comica Parodistica Sì Che però Ti prende a schiaffi Sì Alcuni Sì tipo Io non riesco Io non riuscivo a guardarlo Anch'io non riesco a vederlo Io non riuscivo a guardarlo Neanche i reels Perché stavo cercando un lavoro Avevo il terrore Di finire in un ufficio del genere Perché esistono veramente E adesso guardando Adesso che ho trovato Un buon posto di lavoro Riesco a ridere Di The Office E questa è un po' la stessa cosa Se il general manager È bravo Ha un'idea chiara Di cosa vuole fare Potete passare Dalle risate a Oh mio dio sto piangendo Per la mia vita E per come è andata a finire L'alienazione del lavoro In questo mondo capitalista Così proprio Uno schiocco di dita Ok Ma anche semplicemente Divertirvi e restare sulle risate Perché è quello che si propone Di fare il gioco Visto che dice di essere Un gioco di ruolo comico Questo lo vedremo Dipende cosa dice La parte scritta Al contrario in azzurro Del manuale Perché secondo me È un altro parere Stra inquietante comunque Bellissimo L'ho letto e ho detto È geniale Perché tutto l'SCP Si basa sul fatto Che non puoi essere sicuro Di niente Non puoi essere sicuro Di nulla Perché tutto è manipolabile Tutto è corrompibile Anche quello che tu stai leggendo Potrebbe corromperti Mentre lo leggi No è quello un po' L'aspetto da creepypasta E quindi come contieni Una cosa del genere Come ti relazioni Con una cosa Che è totalmente aliena Completamente impensabile E quindi questo quick start Come gli altri due Di cui abbiamo parlato Fa un ottimo lavoro Nel rappresentarlo Il prezzo da pagare Che è folle Completamente fuori di testa Tra l'altro Se mi ricordo Metto anche il link Nella descrizione Di un libro Che ha sempre lo stesso stile Che si chiama tipo La società antimematica Dove È un secure Contain protect Ma ancora più moderno È legato un po' A tutte quelle cose Che sono memabili E moderne Così contemporanee Del web Qualcosa del genere Fateci sapere Se queste rassegne Di quick starter Vi piacciono Perché possiamo farne altre E se volete sostenerci Condividete il podcast Se volete continuare Questa discussione Fate un salto Sul nostro discord Che trovate in descrizione Ma soprattutto Passate ad ascoltare I nostri podcast Di actual play Storie di vapore E due draghi sidecast Per noi è il momento Di fare un riposo lungo Fino al prossimo lunedì Perché Il lunedì Non è mai stato Così avventuroso Continuo Ciao Allora